Ciao e benvenuto in questo video, io sono Michele. Oggi vediamo come installare Visual Studio Code. Questo video ti sarà particolarmente utile se stai seguendo il mio corso sulla programmazione per principianti. Visual Studio Code ti consiglio di installarlo se vuoi seguire tutti i passaggi che io faccio, perché è il programma che utilizzo per la maggiore durante le mie lezioni. Ma basta con le parole, andiamo nel computer e installiamo Visual Studio Code. Allora, con il tuo browser preferito cerchiamo Visual Studio Code Download. Becchiamo il link ufficiale, code.visoostudio.com barra download. Benissimo, a questo punto scegliamo la versione giusta per il nostro sistema operativo. Visual Studio Code è un IDE, Integrated Development Environment, Ambiente di Sviluppo Integrato, multipiattaforma, è presente sia per Mac che per Linux che per Windows con le stesse funzionalità. Nel mio caso sto lavorando su una macchina con Windows, quindi installo con lo User Installer a 64 bit. Thanks for downloading, dovrebbe partire il link, eccolo qui. Bene, il download è completato, faccio Open File. Accept, avanti, 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 posso creare una cartella sul desktop. Mi piace aggiungere sia API con Visual Studio Code, sia nel caso che io faccia clic destro sui file, che clic destro sulle cartelle. È molto comodo fare clic destro API con Visual Studio Code all'interno di una cartella. E installo. Ci vediamo alla fine dell'Installer. Bene, lasciamo la spunta di avvio Visual Studio Code in chiusura, quindi faccio Finish. E si dovrebbe aprire Visual Studio Code. Eccolo in arrivo. Bene, a questo punto siamo pronti e operativi con Visual Studio Code. Visual Studio Code è un ambiente molto estensibile, nel senso che è predisposto per installare tantissimi plugin, ce ne sono per tutte le tecnologie e tutti i linguaggi. Andiamo ad installare quello che ci serve per la maggiore nei nostri video tutorial del corso per programmare, che è quello per i C Sharp. Vado qui a sinistra nella sezione Extensions, ok, cerco, dovrebbe essere già presente nelle Popular qui sotto, però lo posso cercare, scrivere C Sharp, ed eccola qui, è la C Sharp Extension by Microsoft, e la installiamo. Cliccando qui su Install, ok, il componente aggiuntivo viene scaricato e installato automaticamente, potrebbe richiedere un riavvio a seconda del componente che abbiamo scelto, in questo caso no. Cosa abbiamo installato? In pratica abbiamo tutta una serie di strumenti che ci agevolano lo sviluppo e il debug, cioè la correzione mentre un'applicazione gira, è in esecuzione, del... Che cosa abbiamo installato? Abbiamo installato una serie di strumenti che ci agevolano lo sviluppo delle applicazioni C Sharp. In particolare, per esempio, abbiamo installato un debugger, che ci permette di vedere il valore delle variabili mentre il programma è in esecuzione, possiamo interrompere il programma mentre va, e tante cose utili, tra le quali, per esempio, anche l'Intellisense, che ci aiuta a compilare le istruzioni suggerendoci quelle più utilizzate mano a mano che le digitiamo. Per essere sicuro che tutto funzioni, scarico il codice sorgente del corso per imparare a programmare e voglio provare, per esempio, il codice sorgente del secondo episodio. Metto nella barra del browser questo indirizzo che trovate in descrizione, vi dovrebbe scaricare uno zip che noi apriamo, faccio open file, eccolo qui, faccio copia, me lo metto nella cartella temporanea, ctrl v, incollo, imparo a programmare main, vado dentro, vado nel secondo episodio, episodio 02 if, src, cartellina dei sorgenti, ok, faccio clic destro e dovremo avere open con Visuals to open con code, grazie a quella impostazione che abbiamo messo prima durante l'installazione. Ci viene utilissima perché posso aprire tutto il contenuto di una cartella così è molto molto comodo. Adesso per avere un riscontro immediato, che tutto sta andando a buon fine, mi attendo qui sulla destra una finestrella che mi dice Per compilare e testare il tuo programma e debagarlo servono dei file, vuoi aggiungerli e noi diciamo di sì. Apro il file csharp e mi attendo un suggerimento dell'estensione per installare dei file mancanti, per aiutarmi nel... eccola qui. Quindi sono richiesti delle configurazioni per compilare e debagare la tua applicazione nella cartella src. Le vogliamo aggiungere sì, faccio sì perché mi viene tutto molto utile. Si crea in automatico la cartellina .vscode, che dentro contiene dei file di configurazione. A questo punto io posso verificare che sia andato tutto a buon fine, perché se premo F5 dovrebbe partire il programma. Perfetto. Da .NET Build parte la compilazione tutto in automatico, io non sto facendo niente, ho solo fatto F5 da dentro il file program.cs. Sta compilando il nostro programma, perfetto. Dovremmo vedere la scritta, inserisce un numero. Qui da qualche parte. Eccola, inserisce un numero. Perfetto, è tutto funzionante. Perfetto, ora abbiamo il nostro ambiente di sviluppo Viso Studio Code per seguire tutte le lezioni del corso. Mi raccomando, metti un mi piace a questo video e iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le uscite. Perfetto, è tutto funzionante. Grazie a tutti.